Il campo è pesantissimo e in più la barca inizia la partita in modo timido e contratto. Gigi di primo secondo, non puoi ancora avversario in avanti. Tiro cross di Dangria. Partita no! Italo e Lattanzi tentano due volte dall'alberato. Così, vai! Tiro cross. Tiro cross. Tiro cross. Cos'è? Punizione senza esito. Altra punizione che scheggia al palo. San Benedetto in avanti, Bisagni chiude. Vieni, vieni Nico! Non aspettare. È l'indietro però, è l'esposito. Bravo. Vai, vai, parti! Bella azione di vallone. Esposito da Andri e Gledian. Bravo Gledi! Bravo Portier! Vai Italo! Esposito per Italo. Tiro cross ma nessuno la prende. No, cazzo! No, cazzo! Buona! Buona! Buona, buona, dai. E comunque buona. Prova. Esposito per Johnny, il portiere in presa. Buona. Dai, ragazzi. Dai, che fatti? Oh, ma cosa condiamo? Punizione di Migliotti respinta dalla difesa. Ancora Migliotti che in sacco con il tiro dei suoi. No, no, tu hai dato la scuola. No, no, tu hai dato la scuola. No, no, tu hai dato la scuola. Anche Matte l'ha presa in una maniera. Pericolosa punizione del San Benedetto. D'Andria la sfiera di testa su corner. Poi Gledian ci prova. Sì, va bene, dai. Gledian, Esposito e Johnny per Lattanzi. Prova. Tiro fuori. Oh, ma che sfiga. Gledian di testa su punizione di Migliotti. Arriva lì. Tornare! Nel secondo tempo pericoloso il San Benedetto sul nostro errato disimpegno. Diamo al raddoppio su punizione di Johnny. Il San Benedetto in avanti, Orlando poi chiude. Abbiere in uscita bassa. Rete per l'attanzi che lancia Johnny, il portiere esce. Il San Benedetto accorcia le distanze con un bel gol. Piotti per Esposito che la sfera è di testa. Andria e l'attanzi al tiro. Punizione del San Benedetto. Punizione dei miliotti dalla tre quarti.